allora facciamo vedere qualche pillola di lavoro e tu intanto magari ci spieghi cosa stai facendo che dici ok vai vai allora andiamo allora qui sto carteggiando del polistirene stiamo praticamente facendo un restyling dell'arma dell'evangelion 05 che ha questa grande lancia questa grande spada e è costruita quasi tutto in polistirene con un'anima interna in legno cioè una sottile asta di legno all'interno ma all'esterno e polistirene il polistirene si presta molto per essere quasi scolpito quasi lavorato come il legno a quindi si può lavorare direttamente il polistirene sì è molto compatto e quindi anche con della carta vetrata molto grossa riuscite veramente a sfondarlo e a dargli le forme che che desiderate in questo caso stiamo cercando di renderlo un po' più dinamico un po' più tondeggiante quindi abbiamo lavorato con della carta carta vetrata molto grossa perché volevamo mantenere comunque la superficie un po' granulosa delle dell'arma finale giusto per dire questo una volta era un rettangolo giusto cioè aveva gli spigoli se aveva degli spigoli molto grossi perché era proprio tagliato con un cutter con la lama e quindi aveva una forma molto grossolana certo come come prodotto vogliamo vedere un'altra perla vogliamo vedere un'altra perla che così nel frattempo tu ci spieghi vedete della prismatec come sono messi in estate lo vediamo lo stiamo vedendo lo stiamo vedendo ecco ti che carteggi e quindi sì ecco la carteggia è a mano quindi con questa carta molto grossa a mano si procede e si riesce veramente a tirare via un bel po' di spessore e il polistirene è bello compatto quindi comunque agli urti è resistente è importante però dargli dei delle belle mani di fondo dei prodotti in modo che resti ancora più compatto nella superficie ok quindi ci dovrebbe essere anche un'altra parte del video dove stiamo stendendo qui sto stendendo della vinavil sopra il polistirene allora la faccio partire che così anche chi sta guardando in questo momento si rende conto di quello che dici il fatto di averlo carteggiato con una carta molto grossolana rende molto rugoso quindi il colore sopra quando lo stendete avrà una buona presa quindi per quello magari è importante anche lasciarlo pure un po' ruvido come come finitura io stendo la vinavil così come vedete è densa e quindi va tirata a pennello e la vinavil l'ho data perché poi devo verniciarlo con delle vernici a solvente il solvente rischia di aggrapparsi di mangiarvi un po il polistirene quindi è bene creare una bella uno bello strato uniforme di fondo dove il la vernice non pene infatti io ti stavo per chiedere se dovevi appiccicarci qualcosa con la colla vinavil però a questo punto hai già spiegato che effettivamente serve per il colore sì praticamente vedi qui in questo lato ho dato la vinavil in questo altro lato c'è la vinavil più una pittura all'acqua in questo caso un fondo nero sempre per preparare il fondo poi verrà spugnato sopra una vernice argentata metallizzata solvente direttamente sulla superficie finale ok e quindi verrà rifinita tutta lucida e metallica quindi questa sarà l'arma che porterà elisa nei prossimi nelle prossime eventi dove faremo animazioni con l'evangelia un 05 non è pesante quindi no no infatti in polistirene perché comunque è più alta di me sarà un metro e 90 quasi di arma però il peso è veramente maneggevole molto leggero certo certo beh bello non vediamo l'ora di vederla veramente dal vivo questa cosa a gai la la questa pillola si conclude ringraziamo te e ringraziamo tutti quelli che stanno guardando grazie a te luca ciao a tutti i ragazzi dell'academy e continuate a seguirci le perle di saggezza about you e bauti